E' venuto a mancare la scorsa notte l'avvocato Massimo Preziosi, decano degli avvocati Irpini. L'avvocato Preziosi è morto a 77 anni. Da tempo combatteva contro un brutto male, ma anche in questa circostanza il noto penalista vellinese ha saputo mantenere la discrezione che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Un uomo elegante, spesso anche ironico, ma sempre con stile. Nel 1975, a soli 33 anni, è stato sindaco di Avellino, una carica che molto prima di lui aveva ricoperto il padre Olindo. Nel 1996 tenta la corsa al Senato nel collegio che vede l'affermazione di Nicola Mancino. Nel 2009 si candida ancora per la carica di primo cittadino contro Giuseppe Galasso. Recentemente l'avvocato Preziosi ha festeggiato i 50 anni di carriera. Per lunghi anni gli avvocati Irpini hanno avuto in lui un importante punto di riferimento. E' stato infatti anche presidente della Camera Penale Avellinese. Una figura importante in città, una persona davvero per bene, un uomo di altri tempi, un gran signore dentro e fuori dalle aude del tribunale. La notizia della morte dell'avvocato Preziosi in poco tempo ha fatto il giro della città e della provincia che piange Massimo Preziosi e mostra tanto affetto alla moglie Maria di Nocera, ai figli Olindo e Valerio, entrambi avvocati, ed Alessandro, attore di fama nazionale. I funerali dell'avvocato Massimo Preziosi sono previsti per domani mattina alle ore 10 presso la chiesa del Rosario.